In apertura di questa edizione abbiamo parlato della felicità sotto l'aspetto filosofico, sotto l'aspetto psicologico, abbiamo parlato di felicità caduca, di illusione, di felicità, ma adesso facciamo la sintesi, una sintesi che può essere fatta solo con un grande uomo, un grande teologo, consulente familiare come Gigi Avanti. Allora, Gigi, la felicità è davvero una chimera? Siamo destinati a brevi momenti di felicità inseguiti e poi a lunghi momenti di sofferenza o c'è una lettura diversa? Ma paradossalmente è una lettura diversa, non è una chimera. Per esempio, sempre paradossalmente parlando, questo momento che stiamo vivendo tu ed io è un momento di felicità, quindi è a portata di mano. Però mi vengono in mente altre affermazioni, per esempio c'è Borges che scrive questo aforisma bellissimo, dice Il paradiso è qui su questa terra, l'inferno, e non accorgercene. Questo è tanto per fare una battuta, no? E non accorgercene. Perché non ce ne accorgiamo? Perché siamo sempre presi dall'ansia di doverla trovare chissà dove la felicità, mentre il trucco sarebbe quello di viverla, no? Il mio amico Geppi dice Di tanto in tanto dovremmo smettere di cercare la felicità e limitarci a essere felici. Ecco, i due verbi, no? Cercare. Uno cerca ma finché non trova non è felice, no? E poi tocca vedere se quello che pensa di trovare sia proprio la felicità. E l'altro verbo è limitarci ad essere felici. Limitarci vuol dire il limite, no? Il limite nostro di creature umane è il presente. Questo presente che come anticipavo all'inizio, no? Stiamo vivendo io e te. Quindi tutto sommato la felicità è possibile se si vive il presente. Cioè vivere la felicità oggi senza inseguirla. Esatto, proprio bello. Esattissimo. E questo mi fa venire in mente, quindi ti ringrazio per questi stimoli. Un'altra affermazione che dice La felicità non è un traguardo di arrivo, ma è un modo di viaggiare. E ancora vedi che l'attenzione è orientata sul vivere il qui e ora, il presente, come modalità per vivere felici, tra virgolette, no? E mi viene in mente, ecco, sempre un po' paradossalmente, quando c'è stato il periodo del Covid, no? E tutta l'Italia è stata tappezzata con dei cartelloni che portavano scritto Andrà tutto bene. Tu lo sai, no? Poi c'è anche la psicologa Gloria, che io sento sempre volentieri, no? E tu lo sai che, lo dicono gli psicologi, che il futuro è sempre un po' ansiogeno, no? Andrà tutto bene, ma speriamo, dice speriamo. No, andrà tutto bene se adesso fai andare tutto bene. Cioè se adesso ti poni nel contesto che stai vivendo, in maniera da convivere, in maniera meno massacrante con i problemi, perché i problemi sono un po' la natura della vita, no? Se uno aspetta di vivere felice quando avrà risolto i problemi, è campo a cavallo, no? Campo a cavallo. Quindi la felicità non è una stazione di arrivo, ma è un modo di viaggiare. Un modo di viaggiare, una volta si dicevano, vivi la giornata come se fosse la prima, con tutto questo entusiasmo della novità. Altri dicevano, vivila come se fosse l'ultima, che uno fa pure gesti scaramantici, no? In realtà viviamo la giornata convinti che è unica, come è unico a questo momento che tu Giancarlo stai vivendo con me e che gli spettatori poi quando vedranno questo video godranno, no? Ecco, mi pare un po' questo. Andrà tutto bene se adesso sono capace di fare andare tutto bene senza, speriamo che tutto finisce, speriamo di non avere problemi. Contestualmente hai problemi. Bene, bene, grazie per queste tue parole sempre chiare, sempre puntuali e allora caro Gigi, alla prossima. Grazie Giancarlo, grazie. Grazie.